Le maglie Fiboc in vendita, Butti e Pellicano a raccontare le imprese degli anni Ottanta, Betancourt, Defendi e Madrigali a consigliare tifosi sugli acquisti da fare. Secondo appuntamento giovedì scorso per l'iniziativa commessi per un giorno. All'Amaranto Store, presso Didi Gioielli, dietro il banco, i tifosi hanno trovato i tre calciatori che si sono occupati per circa un'ora e mezzo di consigliare tutti sulle taglie della maglia celebrativa, articolo richiestissimo da subito. I giocatori si sono calati alla perfezione nel ruolo di venditori, ridendo e scherzando, ma anche facendo provare le maglie e ripiegando con cura quelle che andavano rimesse a posto. E una serata tutta incentrata sulla vendita delle maglie celebrative non poteva avere ospiti migliori di Stefano Butti e Pino Pellicano, che dopo aver preso parte alla conferenza stampa di presentazione non hanno voluto mancare all'occasione autografando le maglie e scattando foto con i tifosi. Grande soddisfazione per i titolari dell'Amaranto Store per il successo che stanno ottenendo queste iniziative organizzate in collaborazione con lo staff degli uffici marketing ed eventi dell'Unione Sportiva Arezzo.